Ma cos'è che succede, eh? Eh, ma andateli da mangiare a toccare! Ma è solo un cucciolone, poverino! Cucciolone, sembra un leone! C'è la contessa? No, è fuori casa, ci sono solo io! Cos'è mi ha portato? Ma bene, bene, bene! Eh? Ma, Giulia mia, cosa stai facendo lì sotto? Ah, buongiorno, signora contessa, sarei impeccata per le sigarette? Ah, sì, per le sigarette, ma mi dispiace, non fumo più! Non leggi le statistiche sui giornali? Il fumo uchì!